buongiorno a tutti fratelli e sorelle in questo video vorrei brevemente accennarvi qualche cosa il mondo ormai impazzito è visibile agli occhi di tutti ma noi secondo la promessa della bibbia secondo pietro 3 13 che richiama anche isaia aspettiamo nuovi cieli e nuova terra in questi dimorera la giustizia personalmente ho scelto di ritirarmi dal mondo in che senso coltivo il mio orto sto a casa limite vado a comprare il pane se non è sempre detto perché il mondo è impazzito fortunatamente dio con me è stato misericordioso compassionevole misericordioso come dicono i nostri fratelli musulmani è una neuropatia periferica e quindi non cammino bene è un dono di dio in questo caso perché il mondo come ora non conviene farne parte aspettiamo nuovi cieli e nuova terra e su questi regnerà la giustizia secondo la premessa che è nella bibbia e che ci fa dio attraverso il suo amato figlio e che ci fa dio attraverso il suo amato figlio